buongiorno amici sono ritornato nella giungla di ieri per vedere te li trovo quella beccaccia eccoci siamo qua caccia siamo io calliope ed elettra vediamo un po se riusciamo a trovar qualcosa oggi la mattina è un po più freschetta di ieri quindi in teoria gli animali si dovrebbero senti meglio ecco la partita qua mannaggia la madrosca era leggo stavano ferma parti da qua mannaggia la madrosca brava è andata mannaggia gribbio brava e porta la porta di te porta porta brava eccola vedi allora vedi c'era c'era l'ho presa brava brava piccola brava eccola qua beccacciona eccola eccola brava eccoci dopo averla alzata quattro volte alla fine quando gli ho sparato l'avevo presa infatti ricercando la mia partita mi ha fatto un voletto di dieci metri e sono andato là mi è ripartita l'altra volta e l'ho finita eccola qua ce l'abbiamo eccola qui la nostra beccaccia caliope perfetta ecco adesso sto andando via abbastanza soddisfatto brava cali brava cali